Ciao, sono Nico Benz e insieme a Nicola Sbenigni ormai più di un anno fa ho fondato il Club dei Parrucchieri, la prima membership dedicata al marketing in azione dei saloni da concettura. Un concetto nuovo, un club, una membership con un'area riservata online, con dei video settimanali, dei webinar mensili, una chat H24 su WhatsApp e due eventi all'anno. Uno a dicembre, un workshop e uno a maggio, il Beauty Work. E appunto ci avviciniamo alla terza edizione del Beauty Work, la mastermind dedicata al marketing in azione dei saloni da concettura. E anche quest'anno sarà un evento di due giorni dedicato alla parte più teorica del marketing, una giornata dedicata alla teoria generale del marketing, quello che va fatto, le basi per ripassare tutti o per ascoltare per la prima volta come si fa marketing online e marketing offline nel 2019 e una giornata invece dedicata a tutte le novità perché il mondo cambia alla velocità della luce soprattutto per quanto riguarda l'online ma anche per quanto riguarda una serie di argomenti che appunto affronteremo. Ogni volta abbiamo uno o più ospiti e anche quest'anno in realtà abbiamo inserito uno o due ospiti ma in una formula un po' diversa cioè abbiamo creato una vera e propria partnership con l'azienda più importante legata al mondo dei numeri cioè legata al mondo del gestionale e di tutto quello che c'è intorno. Sto parlando della boss e in particolare sto parlando dei due fondatori cioè Cristiano Bragion e Marco De Campo che saranno sul palco insieme a me e Nicolas per affrontare una serie di argomenti che io e Nicolas in realtà sfioriamo soltanto e cioè la gestione dei numeri in salone, la gestione dei dati, il GDPR, le prenotazioni online, la fatturazione elettronica eccetera eccetera e soprattutto una serie di argomenti che ormai qualcuno più o qualcuno meno stanno diventando quotidiani e per noi diventano fondamentali per la crescita dei nostri clienti. Da sempre io e Nicolas abbiamo ragionato in questo modo, niente partner, niente aziende, niente collaborazioni improvvisate ma abbiamo preferito invitare degli ospiti perché vogliamo mantenere la nostra libertà di poter dire le cose esattamente come ci piacciono. E proprio in quest'ottica la partnership con Cristiano e Marco diventa qualcosa di completamente diverso perché si basa sui contenuti. Abbiamo sempre bisogno di dare al nostro cliente dei contenuti per raggiungere un risultato quale? Incassare di più, guadagnare di più, lavorare di meno e guadagnare di più. Questo è sempre stato il nostro obiettivo sia come azienda e sia come fornitori di servizi ai nostri clienti e quindi il rapporto che abbiamo con Marco e con Cristiano è un rapporto pluriennale, ci conosciamo da tanto tempo sappiamo quanto siano un'azienda forte e seria che ha degli strumenti che servono in maniera assoluta ai nostri clienti e quindi la cosa migliore è proprio quella di inserirli all'interno del club e quindi di far trasferire tutti i loro contenuti anche ai nostri soci in modo da non avere più dubbi su mondi che ci sfiorano ma di cui non abbiamo le competenze e come ho sempre preferito fare anche per me è molto meglio far fare le cose a chi le fa bene e di professione e non improvvisarci a fare i tuttologi che non è mai una scelta vincente. Come si fa per partecipare al Beauty Work? L'ingresso al Beauty Work è gratuito come tutti gli eventi del club dei parrucchieri ma per partecipare bisogna essere soci del club e quindi usufruire anche di tutti i vantaggi del club quindi i due eventi all'anno il Beauty Work è il parrucchieri in azione workshop, il webinar mensile privato che facciamo con gli iscritti al club i video settimanali che mettiamo nell'area riservata con azioni di marketing mirate e tutorial e la chat H24 su Whatsapp privata salone per salone in cui tutti possono fare domande e ricevono i contenuti del club. Questo è quanto. Se volete sapere di più sul club vi basta andare su clubdeiparrucchieri.it scoprire tutti i vantaggi potete usufruire dei 14 giorni di prova gratuita in cui potete anche valutare l'effettiva utilità di uno strumento così nuovo e così innovativo come il club dei parrucchieri e a quel punto prenotare il vostro posto al Beauty Work 2019 in cui ancora una volta porteremo questo settore un passo avanti. Ci vediamo nel club clubdeiparrucchieri.it e poi ci vediamo il 26 e il 27 maggio a Peschiera del Garda Beauty Work 2019. Ti aspetto!